Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti in un'altra giornata di tensione. Tensione soprattutto per i nostri cippini, oggi c'è stato un dump di Olympus DAO che si è tirato dietro tutto ciò che ha a che fare con Olympus DAO ed intorni, quindi tutte le Rebase Coin se le vogliamo chiamare così e chiaramente approfondiremo il motivo, cosa fare, come... Sono cose che bisogna valutare a priori, visti i rischi del settore, vista la dinamica su cui si basa. Ma ne parliamo tra poco, Bitcoin invece se ne sta lì fermo a non fare nulla, va un po' su un po' giù e è in lateralità di nuovo in questa zona, che è una zona molto critica, quindi bisogna fare attenzione perché qua è veramente un attimo che si rischia un dump bello forte e se dovesse succedere sarebbe un bel purge, come si suol dire, un'ammazzata sui denti, non indifferente. Mi aspetto che il mercato farebbe veramente una inversione a U sul breve, darebbe una bella dampata generale al mercato delle alt, molte delle quali rimangono estese, quindi insomma siamo un attimino in tensione. Tra poco vediamo meglio. Poi vi ho preparato due o tre notizie, non ci sono notizie particolarmente interessanti, a dire la verità. Vi tiro fuori ancora qualche piattaforma interessante sulle opzioni, visto che è un'operatività che potrebbe valer la pena conoscere anche nelle situazioni di bear market. Cardano si sveglia, Cardano ha tirato fuori Sunday Swap, finalmente c'è qualche segno di vita, ci sono delle date, c'è un po' di concretezza e apparentemente siamo sulla strada giusta e potremmo, dico potremmo perché il condizionale è d'obbligo, iniziare a farmare tra non molto, tra qualche giorno. Vediamo anche quello. Andiamo a vedere poi anche le varie altcoin perché, ve l'ho detto, il mercato è un attimino isterico in questo periodo. Basta poco, basta anche un non evento, basta un qualcosa nell'aria che tutto quanto il mercato delle altcoin subisce dei belli scossoni. Guardate la dominance, la dominance dà proprio questi segni di isteria. Ogni tanto questo picco in alto dove bitcoin aumenta la sua dominance, il che vuol dire che le altcoin dumpano un po' tutte all'unisono, che è quello che è accaduto ad esempio oggi. Oggi anche le principali altcoin come Phantom, di solito è quella che fa da cartina torna sole di questa leg up dell'ultimo periodo, ha avuto un dump abbastanza marcato. Lo stesso vale per l'una, ad esempio, guardatela, ha rifiutato i massimi locali. Lo stesso vale ad esempio per spell, insomma, tutte quelle coin, acqua assolutamente necessaria perché mi manca l'aria a parlare di certe cose. No, scherzi a parte, tutte quelle coin che hanno performato bene nell'ultimo periodo hanno subito oggi comunque un dump. Di solito quando c'erano questi strattoni, loro erano un po' indenni, no? Si erano create queste due categorie di coin, una delle quali erano tutte queste varie coin, layer 1, layer 2, DeFi, innovativa, che subivano meno. E oggi la cosa è leggermente diversa. Solana è forse quella che sta subendo meno anche oggi la volatilità. Sono curioso veramente di vedere come, quale sarà l'esito finale di questo gigantesco range perché questo sarà veramente eloquente sul possibile futuro di Solana. Quindi ho gli occhi puntati lì. Se mi vedete ogni tanto starnutire, ok, è perché stamattina mi hanno tamponato brutalmente visto che vi annuncio che mercoledì finalmente prendo qualche giorno di vacanza, me ne vado al caldo e dovrete fare senza di me per una settimana. Ho dovuto fare il tampone, mica tampone, tutte quelle rotture di balle lì, ma finalmente si riesce a partire a staccare un po'. Dopo tutto sto casino, ste mille cose fatte e successe, ce ne ho assolutamente bisogno perché è la mia sanità mentale, altrimenti è a rischio. E quindi sbrigatevi a trovare sto benedetto tesoro, tra l'altro, perché io voglio vedere quel wallet vuoto entro mercoledì. Fatemi sto piacere. Torniamo a noi, torniamo sulla Terra. Oggi l'unica altcoin che è in controtendenza è proprio Cardano. Cardano che paradossalmente sta diventando interessante anche da un punto di vista grafico. Perché ha creato quello che potrebbe essere un bottom locale. Scherzi a parte, quando c'è da prenderlo in giro, io sono il primo a prenderlo in giro. Beh, e perché poi ormai c'è questo gioco di sarcasmo a prescindere nei confronti di Cardano, ma si ride, si scherza, il mondo crito è fatto così. Ma l'arto grafico adesso è diventato interessante e addirittura ci potrebbe essere uno spunto di long, qualora le cose chiaramente andassero bene, qualora non ci fossero intoppi di nuovo sulla sua DeFi e sui suoi immediati sviluppi. Guardate il grafico settimanale, tra l'altro, che ha creato, guardate, il livello chiave a questo 2950, in questo caso, dove abbiamo un attimino qua sotto accumulato, avendo quindi le sembianze di una perdita di tale livello, tuttavia dopo questa accumulazione, papam, siamo ripartiti con una doppia candela settimanale verde che potrebbe porre le basi per un'inversione, potrebbe essere di fatto un costrutto di bottom locale. Se noi consideriamo in questa analisi anche questo livello qui, 3250, che è il precedente low settimanale, vediamo come l'abbiamo rotto e quindi di fatto abbiamo creato un cuscinetto di domanda, adesso dobbiamo vedere come chiude questa weekly, però presumo, visto l'andamento, che chiuderà qua sopra e pertanto dobbiamo considerare, qualora fosse così, questa zona come un bel cuscinetto di domanda e anche un eventuale entry su retest, nonché appunto zona di bottom locale. Se poi la DeFi dovesse davvero partire, adesso vediamo, perché qui siamo ancora in succederà tal data, tal giorno, tal ora, quando effettivamente accadrà e vedremo la user experience con questa DeFi, allora se ne parlerà. Sto parlando di Sunday Swap, visto che stiamo approfondendo questo topic. Sunday Swap è il primo, in realtà non credo sia il primo, ma è il primo, diciamo, su larga scala, con farming e tutte le varie feature della DeFi, DEX sulla Chain Cardano, sulle Year One Cardano. Le date da tenere sotto controllo sono queste. Il prossimo 20 di gennaio, dove ci sarà il lancio effettivo del DEX in beta, quindi attenzione beta, mettiamo le mani avanti nel dubbio, ma ci sta, ci sta. Non gliene faccio una colpa, perché molte delle dApp effettivamente online, utilizzate anche con miliardi di dollari, nella DeFi sono in beta. Quindi non è, qui non vogliamo buttare cacca su Cardano, perché è assolutamente legit. Come cosa? Il 25 gennaio ci sarà il primo round del calcolo delle ISO. ISO sta per Initial Staking Pool Offering, Initial Staking Offering. In sostanza, la distribuzione iniziale del loro token, che si chiamerà Sunday, per l'appunto, avverrà a chi mette in staking, a chi ha messo in staking ADA, su degli specifici staking pool. C'era la lista, se non erro, dovrebbe essere forse qua sotto anche, però se ci paciugate un po' la trovate, ve la trovo anch'io, perché ci tengo comunque a darvi informazioni complete, a cui ci sono le epoche, non ci interessa, perché tra l'altro l'avevo vista poco fa, eccola, secondo me è questa, Qualifying ISO Scoopers, eccola, 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 oppla, bene, questi sono gli scoopers, quindi gli staking pool, elegibili per queste distribuzioni. Io vi consiglio la lettura di questi due articoli Medium per andare ad approfondire per bene queste dinamiche. Il primo round sarà il 25 di gennaio, perché poi ci saranno 5 round di queste ISO e, come potete vedere, qua abbiamo tutte le date, quindi l'ultimo round sarà il 14 di febbraio, ok? Quindi questa sarà una distribuzione iniziale del 5% della supply, l'1% per ogni round, e il resto sarà farmabile. Farmabile come? Allora, anche questo lo avevo letto e poi mi sono perso, ovviamente, no, eccolo qua, non me lo sono perso, perché questo me lo ricordavo, quali pool sono qualificati? Eccoli qua, questi 5, questi 4, scusate. Io ammetto la mia enorme ignoranza, ma poi approfondirò, perché se parte la DeFi su Cardano, io vi giuro, ci faccio il video, ne parlo e l'approfondiamo insieme. Approfondirò anche che cosa sono queste coin, giuro, non le conosco, conosco solo Sunday, per l'appunto, e ADA, che è chiaramente la coin di Cardano. LQVMT e Card non le conosco, ma questi 4 pool saranno i pool iniziali per essere, cioè, con i quali si potrà farmare Sunday. Quindi, bene, vediamo come andrà questo lancio, vediamo se andrà tutto liscio e ci saranno problemi, eccetera, eccetera, e da lì magari sarà un punto di partenza. Io me lo auguro, perché vorrei veramente vederlo, questo ecosistema lanciato, partire, no? Porca miseria. È dal 12 di settembre che lo aspetto e sono qui. Voglio farmare, voglio farmare, voglio farci video, voglio farlo insieme a voi, quindi stiamo sul pezzo su questa cosa. Il mercato per ora sta reagendo bene, anche perché, appunto, tra la ISO, magari c'è un po' di speculazione a riguardo, eccetera, eccetera, il farming. Io, sinceramente, come tutti i token farmabili, questo modello di liquidity mining sa un po' di DeFi 1.0, ma non gliene faccio una colpa neanche questo, neanche su questo, è ancora una cosa che va per la maggiore, ma io personalmente non holderei il token Sunday, farei il farm and dump tipico, no? Dei token, appunto, farmabili nella prima fase, perché ci sono, c'è un tasso di inflazione esagerato, c'è un'emissione molto alta, proprio per incentivare il liquidity mining. Devo farmi, appunto, ripeto, un corso accelerato dei token su Cardano, perché io non sapevo neanche ci fossero DAP, cose, token, quindi devo capire il DEX, cioè a cosa, cambio Cardano con cosa, cioè quei token lì a cosa servono. Devo mettermi in pari, quindi abbiate pazienza, sono ignorante, su Cardano studierò e imparerò. Vediamo, se ne vedranno delle belle, questo sarà sicuramente un inizio. Poi, riguardo invece a Bitcoin, tornando a noi, visto che abbiamo parlato di candele settimanali, no, Bitcoin euro non mi interessa, Bitcoin dollaro, candele settimanali purtroppo non ha chiuso, sopra alla resistenza, mannaggia lei, io ci speravo, ci speravo in qualche segnale della domanda, ma non ce ne ha dati. Purtroppo la domanda è fiacca, come non mai, e abbiamo chiuso la candela settimanale scorsa sotto i 43.200. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che il mercato è totalmente statico, ok? Questa candela settimanale della settimana scorsa, l'unico segnale che ha dato è stato lo sweep dei minimi, quindi abbiamo provato a perdere i minimi, non ce l'abbiamo fatta grazie al cielo, perché altrimenti parte la leg down per l'appunto, ma nonostante questo, quindi la domanda che ha creato questa shadow, ha sweepato i minimi, c'è stato un pelo, sì, di accumulazione sul breve, ma non abbastanza per propagarsi, perché poi l'offerta qua si è fatta sentire, come vedete, ci ha schiacciato sotto i 43.200, abbiamo chiuso lì e non c'è verso di recuperarli per il momento. Dovremo vedere adesso questa settimana come andiamo a finire e il follow up che ci sarà, perché alla fine gli scenari possibili, ahimè, questo è stato un po' un piccolo rifiuto, ma non troppo violento. Se adesso andiamo a chiudere più in basso, quindi si conferma il rifiuto, o riproviamo ad attaccare qua senza riuscirci e così via, ahimè, le probabilità di un ulteriore leg down aumentano. Più tempo passiamo qua sotto, ok, sotto quindi a questo vecchio low, e più le probabilità di un'altra leg down aumentano. E in tal caso abbiamo due target, il target di 39.000 che abbiamo sfiorato con lo sweep della settimana scorsa, e poi abbiamo questa grossa zona tra i 30.000 e i 34.000 qua sotto. E poi lì è veramente il momento della verità, eh, perché arriviamo al low di tutto questo grande range, tutto questo qua, e se lo dovessimo perdere, veramente, si salvi chi può, io spero che non succeda, perché sarebbe veramente un casino. Sarebbe l'inizio di un bear market, a mio parere, prolungato. Ci sarebbe buona probabilità. E in tal caso il segnale poi di possibile ritorno, no, in un trend più positivo, un pelo più rialzista, la speranza di recuperare la situazione d'origine sarebbe il reclaim del livello stesso. Quindi, che dire, adesso facciamo le cose step by step, quindi teniamo d'occhio la reazione che avremo esattamente qui. Altrimenti questo è il nostro baluardo che deve essere difeso. Michael, aiutaci tu. Per il momento, ripeto, purtroppo siamo schiacciati qua e sembra per il momento, a meno che non recuperiamo, che il dump sia possibile. Vediamo, magari Cardano ci salverà tutti. Al di là di questo, che altre notizie abbiamo di interessanti? Fatemi vedere. Allora, questa di Walmart non è nulla di che è in realtà, però ve l'ho condivisa e quindi ve la condivido anche qua. Walmart, anche lui, vuole muoversi nel metaverso, ormai tutti vogliono la loro fetta, hanno capito, no, che è un business che è destinato a durare, che il futuro va in quella direzione lì e quindi anche loro vogliono creare un business all'interno di un metaverso, andando a creare degli store virtuali, di fatto delle esperienze in realtà virtuale, con l'erogazione e l'utilizzo anche di NFT, nonché una loro cripto, così dicono. Walmart è un player comunque importante, per questo ve lo sto menzionando, perché è una delle catene retail più grandi, forse addirittura la più grande, negli Stati Uniti e quindi assolutamente va seguito quello che fa. Se si muove in questa direzione, ne sono fondamentali anche questi, i famosi fondamentali che crescono, questo ne fa parte, i grandi aziende che si pongono, che entrano in questo settore, ci investono e lo studiano, non possono essere trascurate come cose, sono i famosi fondamentali in aumento. Poi, ecco, arriviamo a Olympus DAO e dintorni, visto che me l'avete chiesto, alcuni di voi mi hanno scritto su Telegram, sapete che io vi leggo, magari non rispondo, no, non magari, non rispondo a tutti, perché non riesco, ma cerco comunque di leggervi e se vedo che avete domande, dubbi specifici che in tanti mi chiedete, di solito poi rispondo in live, così da far contenti tutti, no, da cercare di condividere le informazioni che possono esservi utili allo scopo poi di capire appunto quello che mi chiedete. In ogni caso, allora, mi avete chiesto, ma Redacted è crollato, cos'è successo, Time Home, sono tutti crollati, mamma mia, aiuto, collassa tutto. Allora, in realtà, quello che è accaduto è che stanotte, è partito tutto da qua, stanotte, se vedete, alle 2-3 del mattino, giù di lì, c'è stata una vendita molto grande di OM, che è il token di Olympus DAO, in particolare sono stati venduti 11 milioni di dollari di controvalore di token e questo ha creato un dump molto marcato da 160 dollari fino a 100 e qualcosa, 130-140, il che ha creato a sua volta una catena di liquidazioni, qual è il punto? Il punto è che molte di queste DAO, no, sono i token che fanno rebase, ovvero quei token che vengono diluiti continuamente, vengono erogati continuamente nuovi token con APY altissimi, con il metodo dei bond, quindi vai ad acquistare il loro token a sconto utilizzando i bond, quindi cedendo altre coin, altri token, e tu li cambi di fatto con il loro token a sconto. Questo è il metodo dei bond su scadenza di 5 giorni, di solito, e ogni qualvolta qualche duno va ad acquistare questi bond, aumenta il circolante della coin e causa quindi un rebase maggiore. Più bond vengono acquistati, più il rebase sarà maggiore. Il prezzo dei bond continua a calare, 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 finché lo sconto non è talmente allettante che arriva a qualcuno e fa degli acquisti, quindi vengono generati i volumi d'acquisto, quando vengono generati i volumi d'acquisto il prezzo dei bond ricomincia a salire, no? Questo è un po' il metodo alla base di Olympus DAO e dintorni. Olympus DAO, Redacted, Clima DAO, RomDAO, cos'altro c'è? Beh, Wonderland chiaramente, sono tutti basati su questo metodo che è stato creato, è originato da Olympus DAO, è stato il primo a ideare questa cosa. Che altro non è che è un modello pseudo bancario, permettetemi questo discorso, permettetemi questo paragone, perché il concetto dei bond non è un'invenzione, no? Non è una novità, è un qualcosa di ereditato dalla finanza tradizionale e riadattato in maniera un po' più digen in queste DeFi 2.0, in queste Reserve Currency che è il loro obiettivo. Il problema è che tutte queste Reserve Currency, tutte queste DAO, sono estremamente interconnesse. Perché? Perché Redacted possiede il 33% di home all'interno della sua treasury, perché Wonderland possiede anche lui una notevole quantità di home all'interno della sua treasury. Inoltre ci si è spinti un tantino troppo oltre con il rischio, con il tirare l'elastico. Perché? Perché il punto di partenza è lo staking, no? Di questi token. Per fare il cosiddetto 3-3, lo chiamano nella teoria dei giochi, ovvero tutti che fanno staking, tutti che guadagnano. Chiaramente poi questo crea delle ciclicità, no? Perché non è che tutti guadagnano e nessuno poi realizza questo profitto. È folle pensare a una cosa del genere. Quindi 3-3 è un meme e va preso come tale, ma prima o poi qualcuno fa profitto, causa una cascata di sell, causa una fase ribassista e poi se c'è domanda riparte, no? Questo è il funzionamento. Però la selling pressure sarà sempre maggiore della buying pressure su queste coin. Perché? Perché vengono diluite con APY ciclopici, ma ne abbiamo parlato fin dal giorno 1, no? Parlavamo di Wonderland, dicevamo Time è una moneta che è fatta per dampare. Infatti Daniele adesso sta spostando l'attenzione da Time a Vmemo perché non è più rebased, ma diciamo incorpora il valore del rebase al suo interno. E lo stesso vale per tutte le altre, no? Vale per Butterfly, vale per ROM, vale per ROM. Sono tutte coin il cui prezzo calerà nel tempo perché la supply aumenta in maniera spropositata. La cosa in più che ha spinto oltre il rischio che ha causato poi questa catena di liquidazioni folle e un meno 45% nel giro di poche ore è stato il fatto che ultimamente, cioè non ultimamente in realtà, un'altra cosa che si può fare con queste token che fanno il rebase e frapparli. Cosa vuol dire? Supponiamo, facciamo l'esempio con Memo, no? Con Time. Io ho Time, lo metto in staking, genero Memo, Memo mi fa il rebase e quindi io ne ho sempre di più, ma Memo tendenzialmente varrà sempre meno. Questa è un po' la logica che abbiamo visto fino adesso. Se io Memo lo wrappo, diventa V Memo, V Memo non fa il rebase, ma il suo valore incorpora il valore del rebase. Quindi se, faccio un esempio che non c'entra niente con la realtà, ma solo per farvi capire, se avessi Memo che vale 1000 e il rebase fosse del 2x, io avrei 2000 Memo che valgono 1000 e quindi avrei raddoppiato, no? Anziché, supponiamo che ne avevo uno, non 1000. Uno da 1000, rebase 2x, 2 da 1000 ho raddoppiato. Con V Memo io ne ho sempre uno, ma vale 2000, mi raddoppia il valore, anziché la supply, non cambia il concetto. Che cosa cambia? Cambia che questi wrappati li utilizzi a collaterale. Ad esempio su Abracadabra puoi utilizzare V Memo per andare a prendere in prestito MIM, quindi tu depositi V Memo, prendi in prestito MIM. Qual è il problema? Il problema è che se V Memo dumpa, ti liquida e questo causa selling pressure, questo causa altro dump e così via, visto che il mercato è illiquido, accade ciò. Quindi le liquidazioni sono innescate da wrappare e utilizzare i token wrappati a collaterale per borroarci contro. Questo è un rischio insostenibile a mio parere, che io non mi addosserei mai e mai lo farò, perché sono mercati estremamente illiquidi, cioè non sono neanche listati sugli exchange, questi grossi token, e sono molto molto poco liquidi. Guardate un dump da 10 milioni che cosa ha causato, cioè pensate se l'ordine di grandezza fosse maggiore. E pensate che c'è molta gente che siede su guadagni enormi, no? Perché pensate chi è entrato presto e si è sparato tutti i rebays del 10% in 5 giorni, cioè si siede su guadagni non realizzati che sono altissimi e di conseguenza c'è una selling pressure gigante lì che alleggia nell'aria e se questo si combina poi con le liquidazioni è veramente la ricetta per il disastro. Quindi attenzione a tutte queste cose. Quindi a noi come tangiano i cipinaroli che buttiamo cipini a destra e a sinistra? Innanzitutto vale il solito discorso che qui stiamo parlando di livelli di rischio estremo, stiamo parlando di protocolli sperimentali che come vedete continuano a scoprire cose nuove, combinazioni nuove, si inventano come diventare sempre più digene, si fanno prendere la mano come il discorso del wrapping più collaterale che viene chiamato 9-9 qui ancora per amplificare tutta questa cosa ma ovviamente più si va in questa direzione più i rischi incrementano, cioè tendi l'elastico, vai a creare situazioni folli. Bisogna prenderne atto, punto. Quindi prenderne atto cosa vuol dire? Vuol dire ok cipino se lo diamo per perso è la nostra scommessa, rischio rendimento come ne abbiamo parlato anche negli ultimi video da sempre, quindi mi raccomando non pensate, non vi venga neanche per l'anticamera del cervello l'idea che avete un capitale e dite boh lo butto tutto in Wonderland, lo butto tutto in Redacted così mi arricchisco e sale sempre, perché non è così, non è assolutamente così, non è la prima volta che succede un fenomeno del genere e non sarà l'ultima e ve lo garantisco perché? Perché c'è chi è entrato prima, ci sarà sempre chi sarà entrato prima, è ciclico no? Ci sono, si realizzano profitti, profitti non realizzati che poi vengono venduti, vengono realizzati, nessuno fa 3-3 all'infinito, no? È tutto, è soltanto un meme, quindi prendiamone atto di questa cosa, ciò non toglie la possibile sensatezza di un'operazione riguardo questi asset estremamente rischiosi, perché c'è sempre un discorso rischio rendimento, per come la vedo io ci sono due approcci sensati. Il primo è il banale approccio del medio termine, quindi dire boh io cipino, tac, vedo che sale in trend, rebase e tutto quanto, ho realizzato un per due, dico un numero a caso, vendo e sono contento e me ne vado a casa con la sacoccia in tasca, ci può stare, approccio più speculativo. Il secondo approccio che è quello che io ho applicato, no? in tale contesto è quello del medio barra lungo termine, ovvero il discorso del rebase diventa tanto più influente quanto più tempo all'interno del protocollo si passa. Quindi questo vuol dire sopportare dei dump, sopportare dei crolli, non essere sicuri che si uscirà in profitto, perché nessuno è certo di niente in questo mondo, potrebbe collassare a zero, potrebbe scoprirsi una falla, un bug 9.9 che diventa il dump del secolo, ok? Quindi ci addossiamo rischi elevatissimi, ma abbiamo dalla nostra parte il compounding del profitto e quindi anche a un certo punto anche eventuali dump non ci tangono più di tanto, no? A patto che chiaramente non arrivi a zero o non accadano cose estreme. Questo era il mio approccio, perché comunque un minimo di studio dietro c'è, non è che prendi, guardi l'APY e dici APIN solo per l'APY, comunque sai che dietro c'è un team che fa cose, che ha un obiettivo e che sta cercando di costruire qualcosa di sensato e non solo un ponzi fine a se stesso, perché io non credo che lo sia, questa è la mia personale opinione, io con le mie strategie seguo le mie opinioni e poi chiaramente ognuno deve ragionare con la sua testa, uno può dire per me è un ponzi insostenibile, allora non ci deve mettere un centesimo, oppure uno può dire ah guarda mi sono fatto i miei studi anch'io, ci ho ragionato, rischio rendimento, sono disposto a rischiare X a fronte di un rendimento Y secondo me favorevole e comportarsi di conseguenza. L'importante è prendere atto dei rischi che sono enormi, giganti e non dire oh no adesso è crollato tutto, che succede, cosa faccio, vendo, perché poi se uno quello che fa è andare a chiudere la posizione in panic cell in una situazione del genere, cioè ha già perso in partenza, perché va a chiuderla nel peggior momento possibile, no? Quindi è il solito discorso dell'emotività, se c'è emotività e quindi uno vede queste fluttuazioni e dice un giorno si sente ricco perché è salito, il giorno dopo si sente povero perché è dampato, si sbaglia, cioè è proprio un errore colossale, lasciam perdere che è meglio, meglio proprio andare su asset totalmente diversi perché ci vuole comunque una certa tempra per essere in grado di sopportare certe fluttuazioni, ma più che la tempra la strategia, cioè essere consapevoli che noi stiamo utilizzando una specifica strategia con dei rischi che conosciamo, che siamo disposti ad addossarci e conosciamo anche il caso peggiore possibile e siamo disposti ad addossarcelo, ma conosciamo anche il possibile rendimento. Questa è la cosa importante e vi prego di prenderne atto, di fare una riflessione interna vostra e di capire se una cosa del genere può fare per voi o no. Mai fare l'errore di dire bene mi arricchisco i py altissimo, i pin perché c'è dietro x, y, z e quindi può solo salire, no, mi raccomando, errore ciclopico. Bene, ho fatto il mio pippone su sta cosa, ma ci tenevo a specificarla perché, insomma, si parla di cose ad alto rischio, non bisogna sottovalutarle. Un'altra cosa di cui vi volevo parlare però oggi è, vediamo, dov'è qua? Friction, perché qui parliamo invece di una cosa un pelino più pro come operatività, ma ultimamente abbiamo visto Dopex, abbiamo visto qual'era l'altra, sempre su Solana, Katana e c'è anche Friction. È una DAP, quindi un'applicazione di DeFi su Solana, sulla quale si attuano strategie su opzioni, in particolare Cover Call e Cash Secured Put. Come funzionano? Allora, qua sopra abbiamo le Cover Call, qua sotto le Cash Secured Put, CSP chiamiamole, perché altrimenti mi si intreccia la lingua ogni volta. E poi ci saranno, guardate che figata, arriveranno i Volt dove si andrà a porsi con strategie Longo Short Volatility, che sono strategie importanti in opzioni, e Edging di Impermanent Loss, quindi tu vai a dare liquidità negli AMM e Edging con delle opzioni contro l'Impermanent Loss, cioè veramente stiamo facendo passi enormi con la DeFi. Però adesso rimaniamo sul semplice, un po' alla volta sto cercando di farvi digerire anche le opzioni, non so se ci avete fatto caso, vi do qualche pillola ogni tanto così, giusto per evitarvi il pippone in una volta sola, che poi uno lo ascolta e dice non ci ho capito una cippa e sviene e vomita, ma un po' alla volta così secondo me aiuta meglio a digerire una roba noiosa e pesante come le opzioni. Il funzionamento è duplice, allora partiamo dalle Covered Call, che ormai veramente qui, altro che pillola qua, tra un po' vi viene il riflesso del vomito solo a sentirla nominare, ma sostanzialmente la Covered Call consiste nella vendita di un'opzione Call, l'opzione Call è un'opzione Bullish, quindi vendere una Call significa incassare un premio di chi compra la Call e perderci se il prezzo dell'asset inizia a essere troppo bullish sopra una certa soglia che si chiama Strike Price. In particolare più è alto lo Strike Price, meno sarà probabile che a scadenza chi ha comprato l'opzione sarà in guadagno contro di noi che gliel'abbiamo venduta. Più lo Strike Price è vicino al prezzo attuale, più il rischio aumenta, perché chiaramente basta un pump meno marcato che noi siamo in perdita perché l'opzione è in guadagno. Quindi, e però c'è un rovescio della medaglia, ovvero che se lo Strike Price è troppo alto non la compra nessuno l'opzione, quindi non costa nulla e noi ci guadagniamo poco a venderla, poco o niente, non so chi di voi ha già smanettato con Deribit, sulle opzioni capirà. Qui ci sono tutto un paniere di cover call su vari asset, su Solana, il cui Strike Price è scelto in maniera algoritmica. Prendiamo un esempio, prendiamo questa Sol, è pesantissimo tra l'altro, mi sta veramente rallentando il pc in una maniera folle, col 48% di APY, perché l'APY? Perché allora in sostanza qua ci sono delle epoche, vengono definite, durante le quali si può andare a depositare, bene, esatto, depositare Sol, ogni settimana, vedete, c'è l'auto compounding, quindi l'inizio della nuova epoca, e si può prelevare, no? Quindi c'è un vincolo sulla liquidità di un'epoca dopo la quale si può sbloccare, non è che puoi entrare e uscire a piacere, anche perché altrimenti la controparte che acquista l'opzione rischia di non avere più chi gli ha dato la liquidità, questo è il senso, e quindi bisogna chiudere un ciclo di compravendite delle stesse. In particolare, prendiamo questo esempio, ve l'ho detto, 21 gennaio col Strike Price 180 dollari. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questo vault, questa strategia, annualizzata mi dà un 48%, il che vuol dire che in una settimana, l'avevo visto da qualche parte, c'era il simulatore, vediamo se lo ritrovo, eccolo, dovrebbe essere qui. Allora, forse non vedete il pop-up perché a volte mi sclerano i pop-up, comunque qui c'è scritto anche il WPY, quindi il weekly PY, anziché annual percent yield, dello 0,75%. Quindi questo è quello che rende in una settimana. Attenzione però perché ci sono delle fee che secondo me non vengono calcolate qui dentro. in particolare c'è una fee di prelievo dello 0,1%, quindi considerate sempre anche questa fee quando andate a depositare. E poi c'è una performance fee del 10% sul profitto. Non sono bassissime le fee, però se applicato bene rimane sensato. Comunque abbiamo detto 47,8% di APY, che vuol dire 0,8% in una settimana, strike price 180 dollari, quindi se SOL a scadenza, che è il 21 gennaio, alla fine di questa epoca, scade sotto i 180, ce ne laviamo le mani, se scade sopra i 180 iniziamo a rischiare una leggera perdita. Quindi questo è un po' il discorso. Cercano di scegliere lo strike price algoritmicamente per minimizzare i rischi dei writer, dei venditori di opzioni. Comunque ci sono anche su altri asset, su MSOL, su BTC, addirittura su Saber, su tanti altri, su Luna, addirittura su Luna. 100,6% di APY su Luna con la call a 94 dollari, sempre il 21 di gennaio. Poi al 21 di gennaio si rinnova con un'altra opzione, con uno strike price differente, ma qua 94 dollari, adesso Luna... No, ma scusate, c'era scritto, tra l'altro, dov'è? Qua... c'era scritto il prezzo di Luna, giusto per capire, adesso siamo a 78,8. Quindi capite che, ecco, si cerca di avere una situazione in cui lo strike price non lo si scavalca mai, a meno che non ci sia un pump fuori dal normale. Le cash secured puts funzionano in maniera opposta. Quindi, in sostanza, scegli un asset, tu vai a depositare stable coin e quello che fanno è andare a vendere una put. Quindi, di fatto, la put è l'opzione ribassista. Di fatto, noi perdiamo se il prezzo va sotto allo strike price, vedete che è più basso, mentre, al contrario, noi è come se avessimo a rendita le nostre stable coin. In questo caso sono in stable coin, proprio perché è differente l'approccio dell'opzione stessa, no? Ok? Quindi, queste sono le due operatività possibili su friction. È interessante perché poi usa come sottostante, come piattaforma sulla quale andare a comprare e vendere le opzioni, PsyOptions, che è quella piattaforma di compravendimento. È una sorta di Derivit su Solana, che tra l'altro ha la IEO domani. Siamo tutti qui con le dita incrociate, cioè almeno io, perché spero di riuscire a partecipare. Domani c'è la IEO su FTX. Vediamo se mi fanno il regalino prima di partire. Dai, speriamo. Una gioia ogni tanto ci vorrebbe. E questo è quanto. Poi mi è venuto in mente qui, guardando Rose, che sto approfondendo un po' Aurora, Near, quel mondo lì, dove ci sono delle rendite interessanti, tipo Rose proprio, che adesso ve la butto lì. Già che ci siamo, parliamo di 150.000 cose. Rose permette di farmare su dei pool. Ci sono i pool, tipo i pool di curve, per capirci, no? Guardate, il pool di stable, con le tre stable, il pool di UST, quindi con UST più le stable, e frax, frax più le stable. Tipo i pool di curve, no? E niente di più, niente di meno. Se poi noi farmiamo, vedete che andiamo a mettere il token LP in farm e stable farm al 24, frax il 30 e UST il 35. Schifissimo non fa, dai. Si farma Rose e basta. Poi Rose, volendolo, si può mettere in staking, ecco, per ST Rose, e ci dà una fetta, no? Delle fee del protocollo. ST Rose è alloccato per 24 ore. Dopo il lock ci puoi fare quello che vuoi. Tra l'altro è liquid staking integrato, quindi magari prima o poi puoi fare anche qualche loop interessante, tipo usarlo a collaterale, metterlo a farmare, farci robe che ormai sapete che non ci sono limiti a tutto ciò. E ve lo segnalo perché è interessante, dai, non è niente male. L'ultima cosa di cui volevo parlare era Platypus. L'applicazione di FTX fa davvero schifo, non funziona capire nemmeno la verifica di identità. Non è vero, dai, perché io mi trovo bene. Mi spiace. Tra l'altro c'è un trick per prelevare free da FTX, cioè tu vai FTX, FTX app, e lì prelevi tutto gratuitamente, pure gli RC20, cioè, mamma mia. E comunque, è la parte dell'oscillatore che esce, ogni tanto esce, non ci posso fare niente. Vi volevo dire, Platypus, mi avete chiesto ma come funziona, quindi, conviene, non conviene, vale la pena, non vale la pena. Allora, ne parliamo subito. Il funzionamento di Platypus è il seguente. Oggi vi ho fatto un post su Telegram riassuntivo, giuro è l'ultima cosa, poi passo la parola a voi. Ho fatto un post riassuntivo su Telegram dove vi ho mostrato un po' il suo funzionamento. Allora, sono dei pool dove si depositano stablecoin, e è uno stable swap, quindi tu swapi l'una per l'altra, con slippage, pressoché minimo. Una sorta di curve, ma che non si basa su pool, ma si basa su single staking, quindi io metto USDT, metto USDC, metto DAI, metto MIM, e non vanno a finire in un 3 pool, in un pool DAI, USDC, o robe del genere. Io ottengo il mio APR, chiaramente, perché questo è un po' il funzionamento di base, no, di tutte le DeFi. Oltre all'APR di base, c'è l'APR Boosted. Questo fantomatico APR Boosted, come funziona? Allora, per ottenere l'APR Boosted, io devo andare a mettere in staking dei PTP, che è la sua coin, di Platypus. In che modo? Allora, qua c'è un calcolatore che mi spiega come funziona e quanto si guadagna, ma attenzione, perché non è esattamente istantanea, no, come cosa. Allora, il senso è questo. Io vado a dare, in liquidità, supponiamo, 10.000 DAI, e quindi avrò una percentuale del pool. In questo caso, meno dello Zeo, una miseria, ok? Poi, io vado, possiedo dei PTP, supponiamo che ne possiedo 100, li vado a luccare per 10 mesi, e qui dico, oh, 475%, e i PIN subito, in realtà, c'è un ma, ecco, era facilmente immaginabile che ci fosse un ma. i PTP io li locco e ottengo 0,014 VEPTP ogni ora. Quindi ciò che accade è che più passa il tempo e più VEPTP ottengo. L'APR boostato aumenta con il numero di VEPTP che ottengo. L'APR boostato viene pagato in PTP sbloccati, quindi su quello non c'è da temere al liquido dal momento 1 in cui vengono dati. Il fatto è che io vincolo i PTP, continuo a accumulare VEPTP, nel frattempo io parto dal base APR che cresce poco 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 alla volta con i VEPTP. Quindi se io ho 100 PTP in stake, dopo un'ora io avrò 100 per 0,014 VEPTP, scusate, quindi avrò un APR boostato di un po', poi ancora di più, di più, di più. Il massimo, l'hard cap dei VEPTP che posso ottenere lo ottengo dopo 10 mesi di staking continuativo. Dopo 10 mesi di staking continuativo quindi avrò il 476% di APR stimato. Stimato perché? Perché sulle condizioni attuali tra 10 mesi ci saranno molti più VEPTP in circolazione, quindi sarà molto più basso. In altre parole, non fidatevi di questo calcolatore perché è assolutamente fuorviante. I VEPTP sono bloccati, non ci puoi fare nulla, non li puoi trasferire, se fai la stake ti si azzerano completamente, devi ripartire da zero, quindi il discorso è il seguente, parti da un APR del 14%, che comunque schifo non fa, è un APR del tutto onesto, metti i tuoi PTP in stake, parti da zero e un po' alla volta aumenta il tuo APR fino ad arrivare dopo 10 mesi a un massimo che è quello che vedi sotto in verde, però dopo 10 mesi, dopo 10 mesi la supply di VEPTP sarà molto più ampia, tu il boost ce l'hai a seconda della tua frazione di VEPTP sul totale e di conseguenza sarà più diluita, sarà più bassa, quindi è fuorviante questo calcolatore. Questo non vuol dire che fa schifo, però ricordatevi che ci si sta portando tra virgolette a holdare PTP finché si vuole ottenere quella APR PTP è particolarmente inflattivo e soprattutto ha avuto un andamento abbastanza parabolico oggi ha già dampato del 30%, quindi massima attenzione perché qua ecco che hai niente come non detto è già abbastanza dampato massima attenzione perché comunque il solito discorso una coin tremendamente inflattiva genera poi della gran volatilità e del gran casino. Questo è il funzionamento di PTP in Anaciel quindi nella maniera più sintetica possibile non è tutto oro quello che lucica è interessante ma anche lì bisogna come dire applicarsi non fare i pin perché altrimenti ci si trova un attimino spiazzati. Questo è tutto amici miei io direi che posso passare la parola a voi in realtà ho parlato solo io oggi Platypus è per le Wade dici bene una mezza sola ma mezza sola no in realtà perché il suo perché volendo ce l'ha ma anche la PR di base non fa schifo però non è tutto oro quello che luccica Tokimak non l'ho guardato oggi com'è andato non lo so vediamo se ha dampato anche lui insieme a Home e compagnia a meno meno dai ha tenuto un po' più botta ha tenuto un po' più botta meno male insomma dai no non ha messo male come coin vediamo vediamo cosa combina vediamo cosa combina basta dai parola a voi parola a voi parola a voi un po' di domande ah no ecco a proposito di hack che vedo che ne parlate l'hack che c'è stato su Redacted cioè non c'è stato un hack avevano trovato un bug ma l'hanno sanato subito non è causa del dump secondo me secondo me non c'entra più il discorso di come si chiama di Home che ha causato un po' tutto quindi conviene tentare con due mesi più che dieci ma guarda è lineare quindi tu se metti in stake i ptp un po' sempre di più ne hai e poi quando non vuoi più li li unstake e li vendi cioè non ci sono particolari i limiti ieri era dumpato già Redacted sì ma meno il grosso del dump c'era stato oggi e poi vabbè considera che anche quello era cioè aveva avuto un app era successo una cosa senza senso secondo me ovvero aveva avuto un uptrend nonostante i rebase quelle sono delle grosse dei campanelli d'allarme secondo me no? di cioè si stanno accumulando profitti e quindi prima o poi arriva un dump in altre parole ok? 1500 guardate eccolo vedete c'era stato tutta una fase di uptrend cioè assurda dal 20 di dicembre quasi un mese di uptrend cioè no 15-20 giorni di uptrend con rebase cioè e questo vi fa capire quanto profitto non realizzato si è accumulato no? e prima o poi viene scaricato adesso c'è la fase ribassista poi si raggiungerà un equilibrio e partirà un ciclo successivo cioè alla fine non ripeto non è a mio parere non è una cosa fine a se stessa il mio cipino è lì e rimane lì non sapete il discorso del tempo io sono qui per il tempo non per la speculazione sul breve altrimenti avrei potuto già tranquillamente vendere con quasi un per tre tra rebase e uptrend rispetto al punto di ingresso ma come dire magari me ne pento magari no ma la mia strategia era quella e è vero era già in ritracciamento con lower high lower low ma ve l'ho detto è ciclico è la sua ciclicità allora Luke io farei la stake dei miei luna perché con questa forte incertezza del mercato in caso di bear servirebbero 21 giorni per riaverli e trasformarli in ust e guarda lì dipende da te dipende da quello che vuoi fare se tu vuoi averli liquidi per essere pronto a venderli è una scelta saggia averli non vincolati perché se dipende dal tuo obiettivo no se l'obiettivo è detenerli non ti importa se l'obiettivo è venderli ti importa e come considera anche una soluzione di liquid staking perché come si dice la cioè ha il low staking e la liquidità contemporaneamente tipo luna x quello è può essere valido allora Luca conosci milcomeda è un progetto che porta una sidechain e il vm compatibile su cardano è già partita la testnet me la segno io sto sto prendendo appunti su cardano grazie anzi scillatemi le cose su cardano se ce le avete perché così approfondisco allora 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 Luke perché time non ha più il backing del prezzo è sparita anche la voce sul sito ma perché è furviante come cosa il backing cioè non alla fine viene investita la treasury cioè non è lì soltanto a tenere in piedi il prezzo del token no e loro stanno lavorando su una comunicazione diversa come il passaggio da time a vmemo cioè meno concentrazione su come si chiama sul prezzo del token stesso e più sul piano ampio no per vedere i grafici di token ma credate puoi usare oh mamma mia no me lo son perso c'era un ah dex screener ok grazie grazie io usavo dex guru di solito ma si sono sono simili ancora perso pensioni in un mese ragazzi qua va va riempito va riempito stai il dresser perché qua altrimenti siamo nella cacca cacca mirror tracker anchor vediamo io ho visto che sta continuando a dampare siamo a 52 milioni bisognerà pur far qualcosa prima o poi anche perché la divergenza dove app anchorprotocol.com la divergenza tra borrow e earn è bella marcata guardatela cioè tra l'altro è crescente no la forbice quindi bisogna fare qualcosa deve arrivare in fretta il resto del collaterale anche perché il prezzo di hunk se scende le reward date ai borrower diminuiscono diminuisce l'incentivo a borrower adesso costa il 3% borrower non benissimo mi sa che è così pistola alla tempia una riduzione dell'APY arriva arriva e andrà tra il 16 e il 17% secondo me a naso vediamo vediamo sono curioso sono veramente curioso implementare subito B-SOL e B-ATOM qual è la soluzione scusa ma gli LP token di Terraswap possono essere messi a rendita no non c'è farming sugli LP token di Terraswap su Astroport c'è ma su Terraswap no su Terraswap no Desmos guarda Desmos a me piace come progetto adesso sto preparando un video sui progetti più interessanti su Cosmos dove ve li provo a spiegare un po' no è un mondo ancora poco conosciuto si conosce magari Atom ma meno quello che c'è dietro quindi state sul pezzo state sul pezzo poi Luga ciao dove andrai in ferie ti collegherai da lì ci farai vedere qualcosa tipo i più bananari a proposito di bananari adesso vi faccio ridere perché vado nel posto da bananaro per eccellenza fantastico vi farò ridere un sacco vi farò ridere un sacco e magari una live la facciamo magari una live la facciamo se ne va da roba a cercare il tesoro a cercare il tesoro state onde comunque sarà divertente allora Luke quale pensi sia un buon ingresso su Atom allora allora ovviamente non sono mai consigli finanziari quindi io non vi devo dire quando entrare quando uscire ma io analizzo soltanto il grafico dal mio punto di vista detto questo stiamo andando a ritestare proprio il vecchio high settimanale 9380 sat quindi questa potrebbe essere una zona di retest e breakout retest non male come come area guarda ti dico questa tutta questa zona non è per niente male con il nostro stop loss sotto e volendo si può anche estendere un po' l'entry fino a qua in caso di pesca della liquidità stop loss sotto gli 8000 sotto questa zona e basta perché se ritorniamo a chiudere candele qua sotto abbiamo fatto un costrutto di top quindi questo è il nostro exit scenario in perdita chiaramente in stop loss altrimenti su ipotesi di altre le gap potrebbe essere una posizione quando entri su Phantom invece ragazzi i miei Phantom è esteso è in hype a me le cose in hype non piacciono quindi ora no di sicuro eventualmente valuterò un accumulo in futuro mi mangio alle mani di non aver fatto il di non essermi esposto su tutti layer 1 layer 2 come dicevo che mi sarebbe piaciuto fare ma a mano non c'avevo voglia troppo pigro alla fine ho scelto l'1 solana certo non mi posso lamentare però anche phantom e harmony e tutti gli altri schifo non mi avrebbe a proposito harmony come andiamo e anche lui oggi ha subito però è tremendamente bullish la total market cap guarda che roba guarda che roba la total market cap 2.1 trillions da dan zuccata e ripartiamo a ribasso quindi rifiuto lower low lower high insomma insomma questa è eloquente perché se la confrontiamo con btc beh anche btc è uguale cioè uguale no perché non è andata a retestare è un po' più sporca mentre la total dunque anche vediamo se è un equal low non è un equal low rispetto al passato perché btc è in equal low adesso mentre la total è ancora in higher low quindi se spingiamo spingi bitcoin non far la cacca ma spingi se spingiamo in questa direzione ripartiamo potremmo addirittura aver fatto un higher low ma vabbè opium opium puro qua basta sto iniziando a sognare ad occhi aperti quindi è il momento di andarmene sì direi di sì amici che dire io urge un video su liquid driver con annessa strategia eh sì è vero dovremmo fare un po' di dovremmo fare un po' di come si chiama approfondimento sulla DeFi su Phantom perché lì c'è tanta roba interessante tanta roba interessante assolutamente sì poi anche sulle altre chain avevo su near la volevo fare near aurora ai dintorni però forse ancora un po' acerba ma vale la pena aspettare ancora un po' mentre su Phantom c'è della roba bella c'è della roba bella quindi magari lì lo facciamo Rose Oasis Rose ne abbiamo parlato poco fa Oasis ne ho sentito parlare ma non non fare video che se no le IPY scende esatto tutti i pin le IPY scende bene raga due pensieri su l'una oggi cosa ti devo dire su luna sono bullish come ieri e come lo sarò domani poi la price action ragazzi è quella che è è tutto esteso le altcoin molte altcoin sono parecchio estese e quindi insomma è un ritracciamento è dovuto prima o dopo mi spaventa perché c'è veramente del potere cioè se viene fuori un bear market delle altcoin viene fuori serio quindi non lo so vediamo vediamo come andrà basta non ci voglio pensare adesso noi concentriamoci su bitcoin che reagisca un po' qua e vada a recuperare un po' i livelli più bullish perché altrimenti non veramente qua c'è c'è il rischio di un inciampone come si deve attenzione quindi attenzione lo scriverò anche nel titolo del video con un po' di clickbait amici io vi saluto vi ringrazio per avermi seguito noi ci rivediamo allora domani la programmazione sarà così domani video chiaramente dopo domani dunque la partenza è alle due quindi il video magari ve lo caccio anche fuori lo faccio la mattina e ve lo caccio fuori al pomeriggio un'analisi così giusto per rimanere sul pezzo e poi ho pianificato comunque l'episodio del corso di DeFi che vi farò uscire credo venerdì a sto punto non giovedì così poi rimarrete senza di me fino a mercoledì prossimo quando tornerò e giovedì ci rivediamo con il video successivo e faremo la live immagino magari facciamo una live dalla la live bananaro style facciamo e sarà divertente in tal caso ma ma niente ma niente vediamo dai e nel frattempo voi rimanete sul pezzo perché i contenuti ogni tanto li continuo a buttare fuori il sito si aggiorna ci sono persone che ci lavorano e fatti bravi non fate cose folli non fate i pin nelle shitcoin mentre sono via perché vi controllo lo stesso anche da lontano io vi guardo e e basta e basta ragazzi miei ci vediamo domani ci vediamo prossimamente in video in live non lo so ve lo dirò di volta in volta facciamo la live bananaro style ve lo prometto una la facciamo come come quest'estate amici fatti bravi noi tanto ci sentiamo anche sugli altri canali vi auguro una buona serata e alla prossima